che corsa che corsa bentornati siamo Flavia e Giovanni di letture metropolitane su radio elettrica in questo momento anche in diretta facebook sì siamo qua e oggi oggi c'è un oggi c'è un turnover non male insomma sugli ospiti è già arrivato il nostro ospite che è in studio che è Davide Predosin buongiorno buongiorno a tutti tu così sportivo senza cuffia la cuffia no perché ci sono c'è una scuola di pensiero a cui da fastidio avere la cuffia quindi pensavo che fosse una scelta consapevole no no sono solo rincoglioni allora Davide è autore di questo libro di questa raccolta dei racconti uscita per Gorilla Sapiens Edizioni che si intitola alcune personalità di spicco tra cui un formidabile guastafeste e è un Davide ormai ha una lunga tradizione di raccolte di racconti è anche un sodalizio con Gorilla Sapiens Edizioni che salutiamo e che diciamo con le quali ci complimentiamo anche per la nuova veste grafica che in effetti ci piace molto le nuove copertine e allora Davide innanzitutto voglio sapere questa era una sua scelta quella che abbiamo ascoltato prima come no come le prossime tre esatto e perché hai scelto quel brano di prima for black matty si è un burn side è un uno dei miei bluesman preferiti questa canzone mi piaceva incominciare con questa canzone perché è abbastanza energica e volevo mettere una canzone di john lee hooker poi ho ricercando tra le mie playlist ho ritrovato questa e mi sembrava adatta e è andato un po nel panico quando gli ho chiesto le canzoni perché come spesso succede perché uno deve sceglierne quattro su magari miliardi delle preferite è sempre una una scelta difficile vuoi più bene mamma o papà esatto così come penso sia una scelta difficile scelta 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 decidere quali racconti inserire all'interno di una pubblicazione perché secondo me da quello che intuisco dallo stile di davide che è appunto molto molto secco racconti molto brevi probabilmente ne hai un archivio mostruoso questa è la mia idea la mia ipotesi giusto sì in effetti è verissimo rispetto alla raccolta precedente alcuni stupefacenti casi tra cui un gufo rotto ho cercato di essere più parsimonioso perché in effetti all'epoca volevo metterne il più possibile e sono un po e tero nella prima raccolta ci sono un po eterogenei non sono diciamo sono di generi diversi mentre in questo caso dopo la seconda pubblicazione lo sturo angoscia ho incominciato un blog è un blog che si chiama crudismi e lo dice come se fosse una cosa una tortura sì è una tortura no no viato ho cercato di creare questo contenitore in cui raccogliere diciamo un nuovo corso di racconti e rispetto alla prima raccolta questi sono diciamo forse più basati su episodi realmente accaduti e ci sono meno meno racconti completamente fantasiosi diciamo però riprendendo quello che mi stavi chiedendo e in effetti sì ce ne sarebbero stati molti altri e la selezione è stata è stata un po dura però ho preferito tenerne pochi pochi spero buoni ok poco è sempre meglio secondo me da un certo punto di vista e si nota ovviamente che tu prendi hai preso in particolare per questa raccolta spunto alla realtà come se in effetti andando in giro ogni tanto a te ti scappasse proprio un racconto cioè ci avessi proprio questa necessità di fissare no su carta quello che quello che ti succede e le persone che incontri in particolare o quello che osservi anche il tuo instagram racconta più o meno questa cosa è vero sì è vero sì sì assolutamente sì ho notato che le cose come si sa è abbastanza proverbiale la cosa però la realtà spesso è più strana della fantasia banalmente e in particolare a me succedono spesso cose abbastanza strane però penso a tutti alla fine tutti potrebbero scrivere delle cose strane beh bisogna saperlo fare non è proprio automatico senti leggiamone subito uno così ci facciamo entrare diciamo gli ascoltatori nel nel tuo mondo ecco datevi un mood vi voglio dare un un sottofondo migliore possibile stiamo sul tempo che lo cerchi è già letto l'accordo va bene allora vi fidate contraddicendo quello che appena appena detto racconterò una cosa che in realtà è non è non è un incontro però è un un'esperienza è un'esperienza un'esperienza esatto la pesca a sbrodolo mangiare una pesca matura sanno tutti mangiarla una pesca matura in più la pesca lavata sul piatto siedono a tavola con il coltello e questo è uno dei modi più comuni e civili di mangiare una pesca matura con la collaudata classica tradizionale presa a pollice coltello tuttora usata da padri e nonni un'altra maniera non meno dignitosa per quanto più solitaria e intimista è costituita dal consumo di pesca matura in posizione eretta affacciati sul lavello in cucina a sbrodolo il vero amante della frutta è infatti in grado di valutare con molta rapidità al tatto la consistenza di una pesca e di scegliere di adottare l'altro e tanto classica esistenzialistica tecnica a sbrodolo gomiti sul lavello testa nel vuoto faccia affondata nel carnoso freschissimo ben di dio con cadenzati e vigorosi risucchi di sicurezza nel silenzio della notte come Albert Camus il vero amante della frutta sarà in grado di uscirne senza sprechi né tarini di sorta rinfrancato e vincitore ecco questo questo è davide predosin riuscire a parlare di una di una cosa del genere cioè del mangiare una pesca sopra un lavello in questo modo direi quanto meno evocativo facciamo così c'era veramente tutto infatti non serviva mancava solo il rumore questo era nel blog era catalogato tra sport estivi in realtà volevo avviare una rubrica di sport estivi di questo tipo ne sono venuti solamente due perché dopo c'è anche la pesca a scroscio certo allora io direi facciamo che facciamo mettiamo una seconda una seconda scelta musicale e poi andiamo avanti molto d'accordo siamo in diretta su facebook siamo in diretta su radio elettrica siamo anche sommersi da messaggio comunque salutiamo Silvia che ci scrive al 351 5241101 e che silenziosamente saluta ma ha detto questa volta ascolto e basta però vi voglio salutare va bene va bene è giusto così siamo in diretta però con Davide Predosin stiamo parlando della sua raccolta alcune personalità di spicco tra cui un formidabile guastafeste e io ti chiederai innanzitutto perché hai scelto il brano che abbiamo appena ascoltato e poi un'altra domanda sui titoli ma anche sulla copertina ecco preparati sì tutte e due assolutamente anche sul titolo se volete sì sì allora no questa è una in assoluto forse è l'unica scelta semplice di questa selezione di brani perché è una delle mie canzoni preferite in assoluto fa parte di un album di Bo Diddley che si chiama The Gunslinger ed è uno dei miei dischi preferiti e forse Bo Diddley è uno dei miei artisti preferiti è una canzone che usai anche al tempo ai racconti degli altri che era una come si può definire una rassegna diciamo organizzata da Carlos Perduti in cui invitava degli autori ah ecco chi è esatto e quindi sì è una canzone che mi mette molto allegria lo spirito di Bo Diddley è inimitabile e ineguagliato mi mette sempre di buon umore diciamo senti invece il titolo? il titolo di questo libro? il titolo allora la raccolta nasce come il titolo doveva essere i crudismi dal blog piaceva alle mie editrici però abbiamo pensato che forse avrebbe potuto trarre in inganno perché molto probabilmente in epoca di veganesimo eccetera si sarebbe potuto pensare che si trattava di qualcosa legato al vegetarianesimo finivi nel riparto cucina bio che era un attimo non che abbia niente contro il veganesimo sarebbero rimasti delusi però perché era un'altra cosa sarebbero goduto di qualcosa di nuovo sì sì probabilmente sì e quindi abbiamo cercato di trovare un extremis un nuovo titolo e cercando di ricalcare anche il titolo della prima raccolta abbiamo scelto questo che è un titolo ovviamente molto sciocco anche perché non ci sono personalità di spicco l'espressione già l'espressione solamente alcune personalità di spicco è ridicola di per sé però accostata e le personalità che poi vengono fuori nel libro diciamo diventa ancora più ridicola il Guastafeste è uno dei personaggi questo di fantasia che fa parte della raccolta quindi alla fine abbiamo ho deciso per questo titolo personalità di spicco ti ricorda proprio quei classici articoli in cui non viene detto niente no? tipo c'è racconti un evento e poi c'erano alcune personalità di spicco sul red carpet dell'imprenditoria britannica sì oppure novarese allora prima di parlare è una cosa ancora molto novarese secondo me è più provinciale prima di parlare dei cappellini delle cose dei lustrini ovviamente le personalità di spicco a proposito a questo punto ho aperto la copertina la copertina esatto Francesco Fidani che io non conoscevo perché ovviamente Gorilla Sapiens lascia sempre forse fa bene e dà ragione l'autore a scatola chiusa al buio diciamo però quando ho visto la copertina sono rimasto veramente era proprio la copertina che mi aspettavo volevo una copertina affollata e accolto bene lo spirito quindi sono molto contento della copertina è molto bella quindi non c'è stato un dialogo tra no zero ha parlato attraverso ha parlato attraverso quindi sono state brave anche le Gorilla vedi gli editori che servono gli editori quelli che leggono il libro e poi ne fanno un libro non basta dare dei soldi per ricevere 50 copie a metà prezzo da rivendere agli amici e qui chiudiamo prezzettia leggiamo un altro racconto allora aspetta questo gioco del mood mi ci sto ingarellando a sorpresa scatola chiusa? sì diciamo che questo ha un po' finale col botto ok bene non so se può può servirti come riferimento alto segnale scateno l'inferno allora questa è assolutamente una personalità di spicco anche volendo anche letteralmente e questo è un incontro reale avvenuto si intitola Giorgio una volta mentre andavo alla fermata del tram davanti a me camminava una coppia anziana vestita bene come per la messa a un certo punto lui è inciampato sulla radice di un platano si è sfraccellato sul marciapiede e la moglie gli ha detto Giorgio che cazzo fai? penso l'abbia detto perché si vergognava chissà scusate io questo l'ho amato tantissimo perché mi sono immaginata proprio la signora dall'alto della sua sobrietà estetica tirare fuori proprio perché è così un moccolo è così il mondo è così e lui si era fatto male e lui si era fatto male si era accaduto proprio male bello non so perché ma me lo immagino a Piazza d'Orra Argentina no stavamo no becone la dici vicino al tram numero 8 su diciamo Giannico ah ok Giannico senti via Giannico come nascono questi tuoi racconti come ci lavori dopo diciamo l'ispirazione del momento di quello che vedi poi che cosa succede? allora sicuramente prendo appunti infatti ho sempre dei foglietti in tasca che trovo dopo anche mesi magari anche che ho lavato come 5 euro sì sì esatto Woody Allen fa la stessa cosa sono fondamentali perché tante cose me le dimentico poi diciamo che una cosa molto utile è proprio la prima stesura anche se semplicemente in una frase di quello che è successo è fondamentale perché poi magari a volte dicono tanto me lo ricordo e invece messa sul momento con l'entusiasmo del momento perché io mi entusiasmo quando vedo certe situazioni certi certi siparietti reali e sì è importante mettere subito giù su carta perché sennò proprio perdi anche l'entusiasmo perché a freddo è difficile poi sì sì e poi che fai? cioè ritrovi questi foglietti queste frasette e dici vabbè questa vale la pena diciamo di trasformarla in qualcosa di più sì sì poi ovviamente il mezzo del blog sarebbe utile anche per vedere le reazioni ma in realtà non ho mai pubblicizzato troppo quindi non ho dei feedback reali potresti dirlo in radio com'è il sito? crudismi www.crudismi sì però ho scritto crudismi come crude sì lei è appena promosso ok ok quindi se vi andate a dare un'occhiata e date dei feedback così Davide ha anche un po' un'idea di come vengono accolti questi racconti oltre al fatto che adesso c'è anche un libro e quindi potete sfruttare questo questo mezzo io direi mettiamo un'altra un'altra scelta esatto poi andiamo avanti JW Stonking giusto? ce l'ascoltiamo giustissimo 351-5241-101 per intervenire in diretta tramite Whatsapp mentre se volete sulla pagina di lettori metropolitane sul radio anzi c'è la diretta di quello che stiamo facendo e anche fuori onda e c'è chi ha reggito veramente tagliandosela spassandosela ringraziamo e salutiamo Valentina Carlo appunto Simona Carlotta Gianluca Silvia Stefano Marilena Elena e Giulia parecchia gente wow una folla raccontaci un po' del perché hai scelto questa canzone e dell'incontro diciamo incontro con l'artista si questo è un musicista contemporaneo anche abbastanza giovane perché non penso abbia più di forse 50 cerco è un è australiano e l'ho visto per la prima volta al monk ripeto si chiama CW Stonking e ha un timbro vocale che sembra nero ma è bianco però è una voce incredibile diciamo il disco da cui è tratta questa canzone si chiama Going Boogaloo ed è registrato in presa diretta mi sembra addirittura dal vivo e ha un suono incredibile e lui anche dal vivo è stato eccezionale aveva anche chitarra contrabbasso due coriste e batteria è riuscito anche dal vivo ad avere un suono da brividi proprio sembrava di essere in un'altra epoca ha fatto da poco 45 anni 45 diciamo che ha un viso molto vissuto quindi poteva averne avuti anche 50 si 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 ma c'è un ritorno negli ultimi anni a questo questo genere qua o almeno un ritorno forse di pubblico perché magari lui lo farà da 20 anni probabilmente però insomma un ritorno che permette ad artisti del genere magari di venire a suonare in Italia perché c'è una richiesta probabilmente un interesse anche delle persone conviene anche suonare in due o da soli perché c'è una certa crisi di soldini quello si quello si vedi c'è no no vedi Bud Spencer Blues Explosion e Black Keys esatto allora stiamo parlando con Davide Predosin del suo libro io ogni volta devo riappeggere per rileggere il titolo alcune personalità di speaker la cui un formidabile questa festa e stavamo dicendo puoi anche vedere ah già ce l'ho anche qua e dicevamo prima fuori onda che il contesto fa anche molto nel senso che come avete forse intuito ascoltando la voce di Davide e il suo accento lui non è di Roma ma di Mestre e a Roma però da 2004 quindi 15 anni 15 anni esatto tiè ciao maestra di matematica esatto e dicevamo che in effetti la città fa molto rispetto anche forse all'ispirazione di uno scrittore Roma in questo tra i tanti suoi disagi però forse proprio per i suoi disagi è una grande fonte da questo punto di vista è una città ricchissima è un'umanità viva succedono continuamente cose particolari anche a lavoro gli incontri sono no raccontavo che un amico che si è trasferito da poco a Milano che ha vissuto diversi anni a Roma comunque lamenta sempre la mancanza di di incontri con personaggi che voglio dire come negli anni 60 potrebbero ancora essere raccontati anche a livello cinematografico forse questo manca forse al cinema anche italiano certo questo un pochino sì dicevamo per esempio che anche gli autobus sono questo grande meraviglioso contenitore di di gente particolare di tutti i tipi e facevo notare che io sono stata a Milano sei mesi ho vissuto ho vissuto lì e una delle cose che più mi faceva effetto era proprio la popolazione degli autobus nel senso che sembravano sembravano diversi non lo so sarà che forse anche il mio occhio è diverso però la quantità di situazioni paradossali di personaggi di appunto siparietti quasi involontari che c'è negli autobus romani difficilmente si trova per esempio negli autobus milanesi sarà che passano chi può dirlo quindi non c'è tempo di creare il personaggio esatto secondo me forse anche per quello va bene e leggiamo un altro racconto questa volta mi sono preparato qualcosa di di diverso ok qualcosa di completamente diverso mi avevi chiesto di leggere il gilet il gilet ok anche questo è un racconto estivo speriamo che sia di buon auspicio per l'arrivo dell'estate questo proprio penso che fosse attorno a ferragosto perciò dovete immaginarvi la calura romana rovente il gilet multitasca retato l'altro giorno ho visto uno a bordo di una bici da donna che indossava un gilet multitasca retato non multitasking multitasca un gilet con 25 tasche e 15 taschini una specie di gilet da pesca da lavoro da uno che fa le cose con le mani come ai vecchi tempi ripara installa fa collegamenti elettrici industriali civili roba che se non sei capace ti prendi una due e venti ma la cosa che me lo ha fatto invidiare questo che guidava una bici da donna nella calura estiva uno che forse non era neanche tanto bravo a fare le cose con le mani ho pensato guardandolo meglio uno che se l'era preso per sfizio forse il gilet multitasca retato era proprio che era estivo e soprattutto retato il gilet come una canottiera retata ma con le tasche tante davanti che sogno ho pensato se lo scrivi su google neanche viene fuori gilet multitasca retato adoro adoro tantissimo anche perché una delle caratteristiche questa un particolare diciamo autobiografico una delle caratteristiche di mio padre in estate è il gilet multitasca non letato però massimo rispetto massimo rispetto per tuo padre dietro all'etato è vero dietro all'etato si passa l'aria grandi cose e stavo pensando mentre addirittura si esatto mentre leggevi tu fai un lavoro oltre a quello di scrivere che però ormai nessuno fa lo scrittore e basta cioè si Camilleri però adesso però non sta bene esatto Camilleri c'ha pure un'età e fuma molto forse qualcun altro ma pochi e tu fai un lavoro che in realtà ti porta ad essere in contatto con il pubblico si anzi non solo in contatto con il pubblico che chiede cose un po' diciamo stile libraio però con anche altre declinazioni musicali no rassicuriamo a casa non lavoro in un sexy shop no che però secondo me ti fanno impiegare delle canzoni dei racconti pazzeschi e che tipo di ispirazione ti viene dal tuo lavoro conosco tutte le categorie di persone le cose più strane che ti chiedono ora te ne butto l'acqua qualcuna l'ultimo dei mohicani se vuoi ti leggo un racconto vai leggimi un racconto lavorativo vai vai hai ragione questo ha qualche anno un'esperienza di qualche anno però intanto silvia scrive geniale vorrei anche io il gilet multitasca arretato spero tu lo possa trovare da mass secondo me si da mass non c'è più no non c'è più non l'hanno secondo me non ho mai capito sta cosa è uno di quei posti che sono anni che ci dicono che chiuderà ma non chiude mai come i tappeti con i tappeti che fanno l'artigiano della qualità che è sempre in promozione vabbè alzo la base allora questo racconto si intitola apprezzamenti regali una volta ho servito una cliente una donna molto alta elegante sulla quarantina abbronzatissima una donna alla ricerca di una specifica esecuzione di una certa qualsonata del giovane frederick francois chopin al suo seguito c'era un giovanissimo figlio che mi arrivava a metà coscia visibilmente attento e curioso della vita dei commessi di me in quanto commesso impegnato a soddisfare le richieste della romantica e abbronzatissima genitrice quando mi sono chinato e in ginocchio ho cercato il disco nel cassetto sotto allo scaffale che si estende dalla c di chopin alla h di handel il cucciolo d'uomo ora alto circa come me ha avvicinato il naso alla mia spalla e mi ha candidamente annusato quindi rivolto alla madre con una certa soddisfazione aristocratica come un piccolo principe che commenta le prestazioni della servitù le ha detto testualmente ha un ottimo odore la signora e madre senza scomporsi ha risposto solo con piaciuta meno male ma è successo davvero questo è successo davvero questo è successo davvero e questo ne succedono ogni giorno ogni giorno purtroppo un po' meno ultimamente però ogni giorno un regalo me lo faccio è andato a fare la spesa sì praticamente sì senti quante scelte abbiamo ancora una soltanto un bagno del johnston a caso ok allora vogliamo dai un'ultima domanda per favore eh sì non so se addirittura far leggere un ultimo racconto e concludere con quello perché secondo me dà più l'idea chiediamo dai scegliamo un altro racconto intanto vi ridò un po' le coordinate stiamo leggendo dei racconti da alcune personalità di spicco tra cui un formidabile guastafeste di davide predosin edito da Corella Sapiens edizioni e e e e e saluto cosa scegliamo e niente scelgo rimaniamo in tema di principini questa volta il principino sono io e questo si intitola le soddisfazioni del principino ieri mattina allacciandomi le scarpe mi sono improvvisamente reso conto di provare ancora sempre e sotto sotto la segreta infantile impareggiabile soddisfazione del sapermi ormai allacciare le scarpe tutto da solo evidentemente si trattava di una sorta di fulminio viaggio nel tempo dovuto alle sempre troppo esigue ore di sonno eppure una parte di me piccola primitiva e selvaggia forse ho pensato giubila di soddisfazione da più di 40 anni ogni volta che completo la vestizione con le scarpe ben allacciate fiero come un principino di aver ormai imparato a farlo tutto da solo quando i traguardi degli adulti non sono altro che orribili e obsolete chimere si può sempre tornare al grado 0 o grado 1 della soddisfazione evolutiva rivivendo l'entusiasmo sguaiato dell'età dell'oro quello che innesca i responsabili scariche di adrenalina a sbafo come con le droghe degli sciamani grazie a Davide Predosino un'altra domanda che mi è venuta in mente mentre leggevi tu leggi racconti cioè di altri è un genere che è e sapresti darci un paio di consigli di lettura da questo punto di vista anche di modalità di lettura degli stessi in che senso dove dove come sull'autobus a casa sul divano su un piede solo io forse il luogo in cui preferisco leggere i mezzi pubblici i mezzi bravo però anche a letto un'opposizione stranissima perché non riesco a leggere come i comuni mortali mi fa male la schiena leggere seduto sul letto comunque non c'entra niente questa botta di ansia di Dach esatto io volevo anche questo grazie 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 qualche consiglio per me i massimi rimangono Chekhov Mopassan poi ovviamente c'è Buzzati c'è Kafka c'è Daniel Charms Landolfi questi sono a livello di racconti poi ovviamente ci sono anche racconti eccezionali anche di Amson anche se sono minori e non sono nemmeno sicuro che siano tradotti in italiano perché li ho letti in inglese e racconti di Amson non penso ci sia un'edizione poi cerchiamo poi cerchiamo e poi recentemente ho scoperto un autore che si chiama lo pseudonimo è Saki un autore inglese molto nero ma anche molto divertente quindi ve lo consiglio se vi capita non è tutto eccezionale ma ci sono dei racconti che sono fenomenali hanno appena ristampato mi sembra Salani ristampato quasi l'opera omnia dei racconti meritano poi ovviamente ho dimenticato Dulcis in fondo per me il top se così posso esprimermi è Robert Walser Robert Walser è il mio preferito in assoluto quindi le prosi di Robert Walser forse sarebbero le prime che avrei messo Walser scrive su Whatsapp si puoi usare il termine top grazie grazie mille Davide Predosin per essere stato con noi concludiamo con Daniel Johnston si esatto l'autore il cantautore che ha una vita assolutamente sua indipendente grande carriera ma è noto per quello della maglietta di Kurt Cobain è anche noto per quello una vita difficile però questa cosa lui è vivo l'altro no e tu perché l'hai scelto? allora in realtà volevo concludere con una cosa leggera quindi ho pensato di mettere Jonathan Richman ma poi improvvisamente mi è ricapitata questa è una canzone diciamo romantica fragile dolce un po' anche sbilenca lui ha una voce un po' particolare lo conoscerete tutti immagino però è una canzone con cui concludere mi piaceva adatta grazie mille Davide per essere stato con noi grazie a voi alcune personalità di speaker la cui un formidabile guasta feste edito Gorilla Sapiens edizioni e ci ascoltiamo la tua ultima scelta Impossible Love grazie grazie a tutti per la tua scelta